Tony, quindi questa sera a Closona c'è l'esordio di Antena 2 Live. Sì, grazie Andrea, grazie. Questa sera parte un nuovo programma che sarà dal vivo nel locale e poi avrà anche ovviamente il suo ramo radiofonico perché siamo radio e quindi quello che facciamo lo facciamo per la radio qui ma abbiamo pensato di fare un qualcosa che potesse anche interessare alle persone che vogliono vedere come si fa radio quindi faremo radio ma dal vivo con il pubblico. Questa sera a primo appuntamento abbiamo pensato di non fare un classico, un programma radiofonico dal vivo abbiamo pensato di fare un concerto intervista e quindi daremo spazio a tutte le band della nostra zona o cantanti della nostra zona che facciano materiale inedito oppure cover e li intervisteremo dal vivo, li faremo suonare e poi confezioneremo questo programma ma che andremo in onda ogni mercoledì sera su Radio Antena 2 esattamente alle ore 20 e 30. Però l'appuntamento è tutti giovedì, tutti giovedì. Quindi questa sera quale gruppo avrà l'onore di dare il via a questa iniziativa? Si chiamano Saudara, sono due ragazzi, si chiamano Mirko e Gloria Zucchelli, saranno con noi appunto, li intervisserò, ci faranno sentire le loro canzoni, fanno musica loro, assolutamente inedita, scrivono i pezzi loro, li compongono loro, li suonano loro e tra l'altro mi ha detto che saranno anche molto bravi quindi non vedo ancora l'ora anch'io di sentirli suonare dal vivo questa sera. Ti ricordo Andrea dove saremo, ricordo tutti i nostri ascoltatori, saremo al Pava Iti di Clusone in via Sant'Alessandro proprio vicino alla sede della radio che gentilmente ci ha dato a disposizione la propria sala, anche grande, dove ci saremo comodi ovviamente noi per le nostre attrezzature, i gruppi e dove ci saranno anche gli amici dei gruppi, dei cantanti ma anche i curiosi che vorranno passare di lì a vedere come si fa la radio dal vivo e sentire anche suonare gli ottimi gruppi della nostra zona. Posso approfittarne sul minuto per l'appello a tutti coloro che suonassero, cantanti o gruppi, se volete far sentire quanto siete bravi, se volete mettervi alla prova con noi vi aspettiamo tutti i giovedì lì al Pava Iti di Clusone oppure chiamateci comunque in radio 329 40 2600 per mandare il vostro sms, fateci sapere che ci siete, poi vi contatteremo noi e vi inviteremo ad Antenna 2 Live, il programma si chiama così.